Puglia si conferma una delle prime destinazioni turistiche italiane, come documentato da Legambiente e dall'incremento dei viaggiatori giunti in aereo rispetto alla crisi dello scorso anno dovuta al Covid e nonostante la pandemia non sia ancora terminata. Un ruolo fondamentale nella stagione turistica della Puglia, spiega la regione in una nota, lo sta giocando senza dubbio la rete aeroportuale pugliese. Una programmazione di voli e destinazioni che ha permesso di moltiplicare i volumi del traffico passeggeri superando anche i numeri del 2019, l'anno che ha fatto registrare il valore più alto. Nell'ultimo mese da metà luglio a ferragosto una stima prudenziale del traffico passeggeri previsto negli aeroporti di Bari e Brindisi dovrebbe attestarsi su circa 850.000 unità. In questo contesto di ripresa spicca l'incremento del traffico nazionale. La Puglia infatti ha puntato quest'anno sul turismo di prossimità e i primi risultati ottenuti sono stati a dir poco eccellenti. Il mare incontaminato, un patrimonio culturale, artistico e ambientale di eccellente valore hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive. Dal Gargano al Salento, dalla Valle d'Itria alla Costa Ionica, sold out anche le vacanze green tra campi, parchi e oasi naturalistiche piene di turisti stranieri, anche le città, boom di presenze a Bari e Lecce.